Il lievito dei farisei è l'ipocrisia, il vero discepolo di Cristo invece riconosce i propri peccati nella consapevolezza che solo il Signore può perdonarlo. Nella messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato sulla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ribadendo che il perdono del Padre Celeste è un atto gratuito di amore e che noi possiamo rispondere a questa grazia con le opere. A nulla invece vale l'ostentazione ipocrita di un cuore che non è sincero. Questi truccano l'anima, vivono dal trucco. La santità è un trucco per loro. Gesù sempre ci chiede di essere veritieri, ma veritieri dentro al cuore. E che se qualcosa appaia, che appaia questa verità, quello che è dentro al cuore. Per questo è quel consiglio, no? Quando tu preghi, vai, farlo da nascosto. Quando tu digiuni, lì sì, truccati un po', perché nessuno veda un po' nella faccia la debolezza del digiuno. E quando tu dai limosina, che la tua mano sinistra non sappia quello che fa la destra, farlo da nascosto.